Come si tratta di un argomento? Che alimentano ovviamente l'irrigazione nei campi e quindi la catena alimentare. L'avvelenamento in questo caso è da FAS. Un termine che dopo qualcuno spiegherà molto meglio di me, presento anche i nostri ospiti. Abbiamo Ciro dello spazio salute popolare di Padova, abbiamo poi Lega Ambiente, abbiamo Greenpeace, Vicenza si solleva, Perufo dei comitati vicentini, delle zone più colpite della zona rossa, che è da anni e anni punto di riferimento e protagonista di questa battaglia contro l'avvelenamento delle acque. Diciamo subito una cosa, è una questione che riguarda, secondo le più recenti stime, circa 800.000 persone, quasi un milione. Dal momento in cui è stato trovato questa sostanza che peraltro non è metabolizzabile, che provoca tumori, provoca malattie anche per le donne in gravidanza, quindi una serie di conseguenze davvero nefaste e distruttive per la salute. Riguarda un'area vastissima, praticamente il cuore, diciamo così, di questa regione. Ci sono due elementi. Il primo è la responsabilità della multinazionale, che si chiama Miteni, che è la fabbrica che produce questo tipo di sostanze. Di recente è emersa una relazione a parte dei nuclei dei carabinieri che è di portata devastante. Noi ce l'abbiamo e ci premoniamo appunto di illustrarla. Qui si può dire davvero che la realtà supera ogni immaginazione. Dal 1990 questi signori sapevano della nocività della loro produzione, sapevano tutto e l'hanno tenuto nascosto. Questa è la prima responsabilità che va individuata in maniera molto chiara, precisa e determinata. La seconda ovviamente è la complicità, il silenzio a senso e la complicità diretta delle lobby che governano questa regione, che hanno saccheggiato, devastato il Veneto da circa 30-40 anni a questa parte, con una continuità al di là delle forze politiche che rappresentano. Ricordiamo il re Uccio Galan e Zaia e il suo degno compare. Per cui c'è una continuità sostanziale, una responsabilità politica enorme. Questo a livello regionale ma anche a livello delle amministrazioni locali, che da tempo sapevano e non hanno fatto assolutamente nulla per risolvere il problema. Naturalmente noi abbiamo poco spazio qui, chiaramente, perché poi c'è il concerto e quindi a noi interessava comunque in ogni caso riuscire ad aggregare i protagonisti, le forze protagoniste di questa questione, dal punto di vista della lotta, della conflittualità e di quello che si è messo in moto, soprattutto in questi ultimi tempi, con varie iniziative molto partecipate. Peraltro ricordiamo, diciamo, tra virgolette, l'irruzione a Mitteni di varie e varie persone, insomma, che hanno stigmatizzato a livello simbolico, che però è importante, violando i confini della fabbrica, hanno stigmatizzato la presenza di questa produzione di morte. Ricordiamo la marcia dei fiori, tante iniziative variegate, articolate, che però hanno un obiettivo comune, a mio avviso, che noi dobbiamo arrivare assolutamente a togliere il male dalla radice. Non c'è assolutamente nessun dubbio e nessun se, o tentennamento, nessun se e nessun ma su questa questione. Il secondo elemento è quello che dobbiamo cercare davvero di mettere la giunta regionale di fronte alle sue pesantissime responsabilità. L'argomento andrebbe la pena di svilupparlo in tutti i suoi stimoli anche di ragionamento sul modo di produzione, su quello che è oggi il modo di produzione capitalistico e quello che è il ruolo fondamentale del capitale estrattivo o del capitale di rapina. Il che significa che questa forma di accumulazione capitalistica distrugge e devasti i territori come sua intima necessità. Quindi non è che noi su questo facciamo un discorso morale, non è migliorabile, non è riformabile. È l'elemento cardine su cui si basa oggi la nuova accumulazione di capitale. Ed è quello della terra a buon mercato, è la mercificazione totale e assoluta di ogni forma di vita che deve essere ridotta a merce. Per cui qui non è più solo un problema di un elemento rivendicativo, è un problema radicale e riguarda la stessa possibilità di riprodurre la nostra esistenza. Voglio solo ricordare che questa questione del diritto naturale e cioè dei diritti che appartengono ad ogni uomo in quanto uomo e in quanto donna questa questione del diritto naturale è una questione che attraversa la storia in maniera straordinaria è quel filone che porta per esempio al fatto che i contadini ribelli nel contesto della riforma protestante guidati da Thomas Muenzer avevano come loro parola d'ordine omnia sunt comunes cioè per dire che i beni comuni appartengono a tutti i beni comuni appartengono a tutti al di là di qualsiasi altra considerazione in quanto uomini, il diritto naturale. Questa questione ha attraversato il tempo e la storia è arrivata a ridosso dei giorni nostri ricordiamo le catastrofe ambientali Seveso nel 1976 Bhopal, Chernobyl ricordiamo le grandi battaglie sul nucleare il blocco delle centrali il caorso e il montato di castro un referendum vinto con il sangue, il sudore e a volte anche le lacrime di tanti e tanti militanti attivisti che in quel momento, in quel periodo storico hanno messo i loro corpi a difesa della salute pubblica e del bene comune e dei beni comuni. Quindi la questione dei beni comuni non è una questione ideologica è una questione vitale è la forma nuova attraverso cui noi dobbiamo radicalizzare l'antagonismo con un modo di produzione che significa molto semplicemente cosa, come, quanto, produrre e perché come sempre, queste sono le domande e che cos'è il valore che cos'è il valore è il denaro, la merce, il lavoro o è la vita, la qualità della vita le possibilità di riproduzione di una vita ricca e degna punto di domanda queste sono le domande essenziali mi limito solo a dire quello che è un nostro orizzonte possibile e praticabile da questo punto di vista riprendendo le parole d'ordine di Thomas Muenzer e dei ribelli contadini le armate contadine che durante la riforma protestante si sono mosse in tutta la Germania per rivendicare l'essenzialità del bene comune e dei beni comuni quindi omni assunt comunes questo è il discorso il nostro orizzonte territoriale è legato a questa questione dell'acqua sicuramente perché di per sé siccome che l'acqua non la ferma nessuno lo sappiamo tutti da chi conosce una casa fa casalinga è domestico casalingo eccetera sa che l'acqua quando corre corre e porta il veleno ovunque dappertutto questi avvelenamenti da le zone della zona rossa da Lonigo da Montecchio fino a Montagnana anche a Pado sono stati rivelati dei valori molto alti e superiori a quelli già molto alti fissati dai poteri costituiti no anche qui in una scuola sono stati rilevati questi valori per cui è da pensare che anche la nostra zona non sia immune a questo da approfondire chiaramente però a parte questo l'interterritorialità il fatto che riguarda trasversalmente territori e province diverse tra i loro dà anche all'atto opposto la possibilità di riaggregare ricomporre una forza una potenza che in qualche maniera potrebbe cambiare i rapporti di forza in questa regione rispetto alla questione specifica quindi è la possibilità di una grande ricomposizione popolare di un movimento popolare veneto a partire dai nostri territori chiaramente pur con le sue differenze e diversità in cui troviamo degli elementi in comune perché i beni comuni sono essenzialmente il riconoscimento della cooperazione comune nel conquistare degli obiettivi pur nelle diversità ognuno sviluppa le sue pratiche ovviamente i suoi percorsi ma dopo di che li mette in comune li mette insieme li fa diventare potenza e non deprivazione quindi su questo pensavamo a un orizzonte di questo tipo intanto l'obiettivo radicale fondamentale è la chiusura di questa fabbrica e produzione di morte questo va fatto in tempi rapidi proprio perché qui la questione del tempo essenziale non possiamo più permettere che cittadini bambini scuole mamme genitori metteteci quello che volete continuano ad avvelenarsi è una questione di tempo di tempo come è nel slogan di questa festa il time questo è il momento dobbiamo assolutamente fare oggi dobbiamo informare ovviamente l'opera di informazione va continuata in maniera ancora più capillare ancora più forte ma per agire informare per agire e agire per informare non possiamo staccare assolutamente i due i due momenti quindi questa è la chiusura della Meten due secondo me c'è un obiettivo di fase immediato e anche questo che va praticato subito vista l'assenza delle istituzioni sul fatto di rifornire di acqua pulita le popolazioni locali a partire da quelle che sono più colpite le scuole questa cosa la dobbiamo garantire noi con la forza dell'auto organizzazione sociale con la forza del comune dal basso dell'altro comune dobbiamo riuscire a costruire dei momenti in cui forniamo direttamente visto che c'è l'assenza totale di questa di questa cosa minima minima e di buon senso un'assenza completa dobbiamo cercare di farlo noi è una provocazione politica chiaramente ma è anche una maniera per costruire dal basso un movimento reale che oltre che ovviamente a criticare il modo di produzione sul piano ideologico ideale pratica anche concretamente degli obiettivi quindi questo è il secondo elemento su cui vogliamo sentire anche raccogliere le opinioni per cercare di organizzarlo materialmente poi finisco dicendo che il 9 luglio qui a Sherwood c'è la festa la festa dei bambini in cui ci saranno parecchi genitori eccetera parecchie mamme genitori eccetera noi pensiamo che possa essere un momento e chiediamo anche magari eventualmente l'aiuto anche da altre parti dove questi comitati già esistono per fondare anche qua a Padova formare un comitato popolare contro il FAS che sia davvero un comitato che esprime la radicalità del problema anche qui a Padova verso le ore 18 ci sarà anche uno spettacolo rappresentazione teatrale insomma proprio sull'acqua per cui la tematica è pregnante assolutamente pregnante e cercheremo di esserci noi se venite anche voi va benissimo in modo da riuscire a vedere se riusciamo anche qui a formalizzare un vero comitato popolare e comincia a muoversi anche da noi che poi ovviamente si intreccia con tutti gli altri va bene grazie 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 a tutti grazie a tutti